C'è anche un commercialista di Fano tra gli indagati per i reati di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale, al riciclaggio e autoriciclaggio. Durante un'operazione di polizia giudiziaria è stato scoperto uno studio contabile di Sirmione, considerato il centro di un articolato sistema volto alla creazione di falsi crediti tributari per diversi milioni di euro che venivano ceduti ai clienti dietro il pagamento di un corrispettivo al fine di compensare i debiti da loro maturati verso l'erario. L'attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento di 104 persone e 126 società con sede in diverse province italiane, ha consentito di ricostruire il meccanismo ideato da professionisti bresciani. Tutto si incentrava sull'emissione di fatture false, ricorrendo alle società cartiere, anche straniere, che ha permesso di creare crediti IVA poi utilizzati da clienti consapevoli per compensare i propri debiti tributari. L'indagine ha permesso di ricostruire tutte le fasi di trasferimento e di passaggio del denaro, nonché i ruoli dei vari indagati, così da consentire di smantellare il sistema criminale. Oltre ai servizi fiscali, il sodalizio si occupava anche di ripulire i proventi illeciti grazie al trasferimento di somme di denaro su conti correnti aperti negli istituti di credito maltesi, slovacchi, ungheresi e croati, a loro riconducibili. Inoltre è emerso che sono state emesse fatture per operazioni inesistenti per circa 270 milioni di euro, che hanno consentito di abbattere complessivamente un debito IVA per 47 milioni ed evadere l'IRES per più di 58 milioni di euro, oltre che di cedere crediti fittizi per 21 milioni. Al momento, 350 unità operative delle Fiamme Gialle stanno procedendo, in ambito nazionale, a dare esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Brescia nei confronti di 26 persone, tra cui il commercialista fanese. Le Fiamme Gialle hanno perquisito l'abitazione e lo studio dell'uomo colpito da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Inoltre è stata data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo che ha colpito fra l'altro un appartamento e la pertinenza di proprietà dello stesso professionista.